Se avete domande, ora rispondo a tutte le domande. Posso fare una domanda? Certo. Il bruxismo. Sì. Una volta che il paziente ha la dentiera, è sopra il bruxismo, può rompersi la dentiera perché lo so che è successo? Sì, sì. Allora, bisogna separare il bruxismo. In realtà, giro perché vi faccio un disegno. Allora, andiamo qua, vediamo se è in diretta. Se ci sono pure domande, fatele ora perché vi rispondo. Inquadro ora la lavagna, così vi parlo di quello che è appunto il bruxismo. Il bruxismo, esistono due varianti. C'è il... Ci sono rotture appunto da bruxismo e da serramento. Allora, denti superiori, denti inferiori. Quando io ho dei movimenti tra arcata superiore e arcata inferiore di questo tipo, questo è il bruxismo. Ok. Lateralità. Lateralità o avente. Sì, questo è il bruxismo. Se io invece ho dei movimenti verticali, questo è serramento. Si risolvono in maniera diversa questi problemi, ma il risultato è lo stesso. Nel senso, i denti possono rompersi. Bruxismo e serramento mi rompono i denti anteriori? No. Per quale motivo? Perché vi ho detto prima, non sono a contatto quelli anteriori. Ok. Il serramento mi può rompere i denti posteriori? Sì. Il bruxismo mi può rompere i posteriori? Sì. Perché sono movimenti laterali. Se uno fa movimenti anteriori, quelli non toccano comunque. Se io trovo i denti roti anteriori, cos'è quello? Serramento, bruxismo o strappo? Strappo. Ok. Spegni, mi sta ammalando Iana. Sto... Sì? 5 minuti, poi la riaccendiamo. Poi, il serramento quindi, per capire qual è la soluzione, bisogna andare all'origine. Vi dicevo, non i denti che sono roti o che vanno rifatti. No, cerchiamo di capire perché si sono rotti. Si sono roti perché ci sono dei movimenti. Questi movimenti sono dei movimenti involontari. Non sono volontari. Cose che fa muovere la bocca. Muscoli. Ma i muscoli chi li aziona? Settere. Ma setere, ptericoide interno, esterno, digastrico, ce ne sono tanti i muscoli. Il problema è chi li aziona i muscoli? Cioè gli stantuffi, chi è che dallo... Sistema nervoso. Bravo, ok. Sistema nervoso centrale. Possono esserci delle patologie che danno l'impulso al muscolo. Quindi muoviti. Pensate al paziente spastico. Ok? Va sempre in contrazione. Va sempre in contrazione. Supponete... Un altro motivo che invece può creare l'attivazione dei muscoli per via indiretta è la postura che dà al muscolo. ha delle fibre proprio cettive che dicono al sistema nervoso la posizione del muscolo, dove sta contraendo. Allora a questo punto il sistema nervoso fa muovere il muscolo. Ve l'ho fatta semplicissima ma è così. Se io vi faccio un esempio. Se io sto su una gamba tutta la notte, la mattina mi sveglierò con la gamba affaticata o no? E l'articolazione? E i muscoli? Certo. Poi mi viene l'acido latico, ok. Supponiamo che nell'articolazione c'ho due arcate di denti, ok. Sto in continuo bilanciamento. Contrai qua, quello. Contrai un po' di più quello, quell'altro e si muove. E si usura. Quindi la soluzione è quale qua? Nel caso si ha la postura, io è qua che devo agire. Nel caso è neurogena, è qua che devo agire. Ok. Il bite, così. Ma la postura non la risolvo col bite. La postura si risolve col bite quando il paziente ha i denti naturali. Ma se non c'ha più i denti, c'ho la possibilità di fare i denti come dovrebbero essere. Ok. Quindi, bisogna capire intanto se è bruxismo o serramento. In genere il serramento è un problema posturale. Ok. Il bruxismo, lateralità in genere sono spasmi neurogeni. Gli spasmi di contrazione, ok, sono diversi da quelli laterali. Quelli laterali si attivano, se fate nota, gran parte dei pazienti, io direi che quasi il 90% dei pazienti che abbiamo è bruxista. C'ha problema, cioè di postura. Perché? Perché ha perso due ruote strada facendo. Quindi il telaio si è storto. Ha perso denti, ha avuto capsule prima, ha fatto devitalizzazioni, hanno estratto denti, i denti si sono sventagliati, ha avuto la piorrea, ha avuto tanti problemi. Quindi quasi mai noi abbiamo di fronte pazienti bocche di un bambino di 10 anni che non ha questi problemi. Anzi, sono macchine che hanno camminato parecchio, hanno preso tanti fossi. Queste sono macchine dove dobbiamo fare il percorso inverso. Prima raddrizzare il telaio, alla fine arrivare alle portine e quindi alla parte esterna, ai denti. Quello che bisogna fare prima è mettere dei provvisori. Noi in genere li facciamo belli grandi, perché una cosa che si è visto è che il serramento, quindi che viene dato dalla dimensione della bocca, in genere chi perde i denti la bocca si abbassa e vengono le pliche qua della faccia estriste e la bocca che ha perso dimensione. Ok, il viso della persona che perde i denti, questa è la bocca, gli vengono delle pieghette qua. La classica bocca vecchietta, poi se io la guardo di profilo, questo è il naso, la bocca va in dentro. Ok, inizia la scucchietta, quella che a Roma chiamano scucchia. Inizia ad andare avanti, la mascella, i denti che c'aveva qui, li ha persi, ma se li ha persi cosa succede? Che l'osso va in maniera centrifuga verso dentro, questa, l'osso va verso giù ma non va in dentro la mandibola. Inizia a parire il vecchietto come che lo disegnano sempre col nasone, le cartilagini che continuano a crescere tutta la vita come le orecchie. Berlusconi ce li ha grandi o piccole le orecchie? Cioè a grandi, perché le cartilagini sono l'unica parte che continua sempre a crescere. Ma il vecchietto ha sempre questa faccia a luna. Ok. Quello che dobbiamo fare noi è colmare questo spazio, con arcata superiore e arcata inferiore, ridando sostegno ai tessuti molli, quindi le labbra, dobbiamo riempire questo spazio. Ma abbiamo la possibilità di, queste sono separate, non le unite, possiamo rialzare la bocca. Quindi noi andiamo sempre, partiamo da dei provvisori belli pieni, belli grandi. Pagli corti. Grandi, il paziente ci dice ma io ho i dentoni. Normale questo? Sì, perché sennò li rompi. Ok. Anni fa ho capito che se noi raddoppiavamo le dimensioni avevamo meno problemi di rotture, per quello che dicevamo prima. Perché avevamo poco tempo, dovevamo già fare tante cose. Ok, facciamo i denti più grandi. Tanto male che vada non sbagliamo. Il paziente non rompe e risolviamo il problema articolare perché abbiamo come fatto il bite. Da quella dimensione possiamo solo togliere. Ok. Difficile invece aumentare dopo. Se lui già si vede con i dentoni, poi li facciamo i definitivi come devono essere, dice wow, belli, più facile. Invece partiamo con i provvisori che sono delle gambe di legno, che è sicuro, belle grosse, tutte piene, non hanno snodi che possono cedere. Fino ad arrivare a un'educazione col tempo, io gli dico sempre, se si rompe i provvisori al paziente è meglio non aggiustarlo. Tutti quei mesi zoppo imparerà a non saltare poi dopo con i definitivi. È educativo quello. Quando invece noi risolviamo subito il problema, quello risalta. E fa parte della terapia quello. Fa parte l'educazione all'alimentazione, come va usata la protesi, la simulazione, fa parte della terapia. Come l'educazione anche all'igiene, chiaramente. Ma il più di problemi che noi abbiamo non è tanto l'igiene, ma sono le rotture. Le rotture è carenza magari di educazione. Perché tutti ti dicono che sono denti come nuovi. Ti diranno che avrai di nuovo i denti naturali. Avrai di nuovo i denti come una volta. Una ceppa. Sono delle protesi artificiali quelle che avrai. E se ti pubblicizzano che sono delle protesi artificiali, dici, ah quella cosa mi devo mettere. Ok? E se invece è molto più bello fare una foto di una persona che non ha problemi, dire, ecco questi so come saranno. No, quelli sono denti naturali. Non sono denti artificiali. Torniamo, faccio le parentesi sempre. Torniamo indietro. Allora abbiamo detto che la postura la posso risolvere in questa maniera. Andando non a mettere il bite. Tutti mi chiedono il bite, il bite, il bite, il bite, non si mette. Se c'è bisogno del bite, ok, è perché c'è una parafunzione nervosa. Ma se noi abbiamo risolto aumentando la dimensione della bocca, non sempre ci azzecchiamo. Possibile che non ci azzecchiamo. Ok, se vediamo quello, cosa è la soluzione? Allora lì sì, cambiamo un'arcata delle due. La facciamo più lunga. Vediamo quale di quelle... Ma parliamo di compensi di 3 mm. Sono piccole cose che però in bocca sono tante. 3 mm ti possono cambiare di gran lunga poi la stabilità. 3 mm dove? 3 mm nella parte posteriore. Posteriore. Ricordate la bocca è come una forbice, una cerniera. Ok, 1 mm qua, sono 2-3 mm anteriori. Ok, quindi significa aumentare parecchio qua davanti. Altre cose che possono causare le rotture sono durante la masticazione, un allineamento errato del piano dell'occlusione. Ok, la bocca, i denti della bocca sono orientati secondo dei piani. Cioè la mandibola si muove, è l'unico osso del cranio insomma che si muove. Questa è la bocca e qua sotto abbiamo la mandibola che è legata, connessa al cranio. Questa si muove così, si muove così, viene in avanti, anzi prima scende poi va avanti. È un movimento composto, questo che fa. Può anche andare in lateralità. Può anche andare in lateralità e in basso. Anche davanti la posso portare. Questi sono i denti superiori e questi sono i denti inferiori. Ok. Il parallelismo, quindi il piano in cui loro si trovano rispetto ai movimenti che loro possono fare, può essere così, ma può essere anche così. Per esempio io gli metto i denti così. Ok, bravo. Questo può portare a delle rotture. Oppure se guardo il paziente davanti, i denti possono essere così, ma possono anche essere così. O così. Ok. Oppure il paziente può avere i denti dietro così. Questo è il ratto proprio. C'era un paziente che ha avuto un orientamento errato proprio. Lì hanno sbagliato perché semplicemente quando abbiamo messo nella forchetta, che è quella su quale lavora il laboratorio, che si chiama l'articolatore, qua si mette il gesso con i denti sul quale sta lavorando. Ok. Esistono due tipi di questi, si chiamano articolatori. Le avete viste in laboratorio? Sono quelle che aprono e chiudono, dove montano i denti. Vedete come sono i denti? I denti sono così, sono su questo gesso. Si lavora in laboratorio su questo gesso e questo poi monta sotto sulle forchette che simulano i movimenti della bocca. Ok. Esistono di due tipi queste forchette. che sono orientate sulla linea dell'orizzonte oppure che sono orientate su una linea che si chiama il piano di cam perché va a unire il naso, la punta e la spina del naso con l'orecchia. E gli acufeni non c'entrano con la mano? Possono dare, possono dare, ma è raro, proprio parliamo di raro. Quando uno ti dice che, quando derivano da quello e ti dicono che derivano da quello è perché non ha saputo fare la diagnosi bene. Rarissimo proprio. È difficile? Possibile, ma è raro. Possono essere più problemi metabolici gli acufeni, non problemi articolari. Si fa quel controllo per escludere che sia anche quello, nel senso facciamo una serie di indagini. Questi articolatori, se noi impostiamo dei valori, per esempio, su un articolatore orientato sul piano dell'orizzonte, e io lavoro con i denti qua sul piano dell'orizzonte, i denti li devo mettere paralleli a questo. Più delle volte noi lavoriamo invece con articolatori che vanno compensati i lavori e quindi vanno inclinati di certi gradi. Cosa succede se io lavoro questo sull'altro articolatore e quando poi lo metto in bocca invece è dritto? Una piccola svista delle volte di laboratorio può arrivare a creare questo. Lo vedi in bocca, vedo i molari e dico no, qua è sbagliato il piano. Vado, faccio le mie verifiche, sì era sbagliato, era sulla linea dell'orizzonte. Il problema era il paziente che aveva un problema fonetico grave, non riusciva a dire certe parole perché gli incisivi risultavano molto più corti perché era stato ruotato il piano. Allungandolo, cioè correggendo il piano invece gli incisivi diventavano più lunghi e quindi l'aria prendeva quel percorso che fa uscire correttamente la S. La S soprattutto perché la S non vanno a toccare i denti, però se la S la dico a bocca aperta che sono in su, la S c'è la zeppola in bocca. Alcuni problemi possono, è importante fare la balistica quando c'è un problema capire da dove è arrivato il problema, altrimenti brancoliamo nel buio. Risposta alla domanda. Nella sindrome dell'articolasse dell'ATM, il temporo mandibolare, che magari è dovuta a una cattiva mastificazione per mancarsi dei molari, magari dei molari che sono stati tolti, poi rimessi magari successivamente. Sto facendo un lavoro di protesizzazione ben fatto, verrebbe a diminuire la sindrome dolorosa, soprattutto da apertura, durante la mastificazione? Allora bisogna… Insomma lì sicuramente avrà… Sì 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 sì, io vi dico che una delle persone più ferrate che c'è in questo è un collega che tra l'altro verrà anche qua a fare dei corsi, che è Marcello, vabbè non v'anticipo troppo, però è una persona con cui veramente mi interfaccio bene perché l'ATM è proprio una… almeno 3-4 libri per parlare di ATM, perché ci sono tanti tipi di problemi che possono arrivare all'articolazione. Sì sì, possono essere traumatiche, possono essere anche lì metaboliche, possono essere problemi dovuti a denti che sono stati persi o denti che sono stati rifatti corti. Ok, denti bassi è come se al paziente lo costringo in una posizione e poi gli esce il disco articolare dalla schiena. Certo, stando tutta la vita curvo così che non può raddrizzarsi perché tu gli hai messo una funega e lo lega, certo gli viene poi l'ernia. Il principio è lo stesso dell'ATM, il principio è lo stesso, sono le basi osse tra i quali c'è un disco cartilagineo che se si muovono, cioè se vanno in un rapporto scorretto il disco articolare si sposta. Il problema è che il disco articolare è tenuto in sede da degli elastici, delle fibre elastiche. Se quelle fibre elastiche stanno in tensione a lungo, che succede agli elastici? Si slabbrano. A un certo punto il disco rimane là, non viene più ricatturato. Può essere transitoria la situazione quando noi vediamo che il paziente gli mettiamo i denti più alti, perché poi la soluzione è sempre il bite, ok? Significa quindi far ruotare la mandibola e il disco viene ricatturato. Se non viene più ricatturato non si può fare nulla. Se invece il problema non è dovuto agli elastici, quindi alla posizione del disco, ma è dovuto per esempio a malattie reumatiche, che vanno a mangiucchiare, a far deteriorare il disco, il disco si consuma, può arrivare addirittura ad essere bucato il disco. Non si può rigenerare, non lo risolvi neanche col bite. E quello in genere è un paziente, mentre com'è che faccia capire qual è l'uno e qual è l'altro problema? Se io metto qua un fonendoscopio, quello che si usa per sentire i battiti cardiaci, faccio aprire e chiudere. Se sento clic, clac, clic, clac, quello è un problema di elastici. Se invece sento... Quelle sono aderenze. Aderenze significa deterioramento del disco proprio. All'inizio si creano dei cristalli, poi quei cristalli diventano sempre più grandi, sinché apri, 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 buccano il disco. L'unica cosa che si può fare lì, la verità, chirurgia, ma non lo so perché entra in un settore che non è il mio. E lì c'è invece Marcello Melis che si occupa solo di questo, che lui ci farà tante lezioni, farà anche training su cose più avanzate. Lui ha studiato America, ha fatto Boston solo articolazione, solo articolazione. Un dentista che fa solo articolazione. Ed è una cosa veramente varia. Ha letto, l'ha nota e dico, ok Marcello, ma come risolvi? Bite. Tutti il bite, 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 bite. Alla fine fatemi, ha detto, i denti più alti, i denti più alti. Poi se non risolvi, alla fine la terapia è sempre quella, rialzare. Se non risolvi significa che ormai è passato troppo tempo e non riesci più a recuperare. Quindi la domanda era, con la protesi posso risolvere il problema? Sì, ma non sempre. Dipende da quanto tempo è passato, quanto è stato il danno. Perché è come i denti, no? Inizi che c'è la carie e fai l'otturazione. Dopo l'otturazione fai un'altra otturazione che si è ricariato. Poi fai, se quella otturazione è profonda, fai che cosa? Un intarsio. Poi arrivi al nervo, lo devi devitalizzare. Dopo la devitalizzazione può andare male, fai il ritrattamento. Se il ritrattamento va male, l'impianto. Se l'impianto va male, fai un altro impianto con il nesto di osso. Se anche quello fallisce, zigomatico. Zigomatico oppure tecniche non convenzionali, impianti sotto peristei. Noi lavoriamo qua. Ok, noi lavoriamo in questa fetta qui. È facile avere problemi anche articolari qua. Il più delle volte noi abbiamo problemi che vengono risolti da questa roba qui. Se non si risolve, rialzando i denti. Facendo, già iniziamo la terapia facendo i provvisori belli grandi. Quindi i pazienti che chiedono perché sono grandi i denti, gli dovrei fare un'ora di lezione. Allora, Sabina Buondini.